Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani In questo nuovo video ripassiamo brevemente quanto detto nel precedente e poi andiamo avanti Ringraziamo come sempre tutte le persone che ci seguono la pagina concorso Scuola 2022 Informazioni che ci supporta e che dà sempre notizie aggiornate e tutte le persone, insomma, saluto in particolar modo i colleghi del TFA Sostegno che si stanno preparando per la prova scritta, alcuni l'hanno già data allora dicevamo nel precedente video che non ho la bacchetta magica per dirvi come diventare istantaneamente dei professori migliori I have not the magic wand to instantly make you a better teacher Punto 1, dicevamo, è importante entrare in classe con entusiasmo e con positività perché tutto ciò viene sicuramente appreso dagli studenti viene percepito dagli studenti It's important to enter to the classroom with entusiasmant sovereignty the kids, the students understand very well if there is the teacher who is hungry, sad or is in a bad mood è importante chiedere ai ragazzi come stanno sia proprio come regola se facciamo, insomma, percepire le nostre attenzioni ai ragazzi ovviamente loro saranno felici poi sicuramente attenzionare le risposte e avere, insomma, delle informazioni aggiuntive It's important to ask to decide to the student how they are It's important to spend a few minutes, two, three minutes per lesson to understand how our students are Nello studio internazionale si percepisce che a livello italiano e europeo è cresciuta tantissimo la competizione della scuola nel quale il dirigente scolastico ha un ruolo anche di manager e tutto ciò non facilita dei buoni rapporti anche con i colleghi e quindi è importantissimo avere dei rapporti buoni diciamo con tutto il consiglio di istituto con il collegio docenti con tutti i membri, insomma, con tutti i docenti ma io direi anche tutto il personale ATA che è dentro la scuola ma in particolar modo con il consiglio di classe The relationship with the other professor and the other teachers are very very important and we have to try to have a good relation with the other professional figures Nelle attività didattiche vi è la centralità dello studente bisogna farlo sentire importante ovviamente nella giusta maniera The student has to feel important for his self for the study for the target that he has to reach In ultimo, ma non meno importante vi era il fatto di aggiornarsi continuamente di continuare sempre a imparare per tutto il corso della vita di studiare, di confrontarsi di seguire, abbiamo detto anche canali come questo insomma, che ci permettono anche il confronto il confronto ovviamente che può creare sinergie positive tra colleghi noi siamo una squadra siamo una squadra ovviamente che a livello sempre all'interno della classe quindi del consiglio di classe all'interno della scuola quindi del collegio docenti all'interno della provincia all'interno della nazione quindi si possono creare reti link di professori di colleghi che collaborano We have to update now our knowledge continuously we can take courses we can study and finally also we can subscribe to this channel to have the opportunity to communicate to compare one with each other questi diciamo erano cinque punti importanti da poter seguire these are five points that we can follow adesso insomma andiamo avanti e vediamo quali sono altre caratteristiche peculiarità che possiamo seguire insomma per poterci sempre migliorare sicuramente un approccio didattico interessante quindi che utilizzi anche contenuti multimediali che quindi utilizzi contenuti che vadano a stimolare tutti i sensi quindi video audio la realizzazione insomma di pratiche laboratoriali il conseguimento di target fissare gli obiettivi rendere partecipe la classe nelle anche in alcune decisioni perché si è visto da tanti studi che ovviamente la partecipazione degli studenti nelle anche in alcune delle fasi decisionali è veramente importante è importante usare contenuti multimediali contenuti videos photos images e altri multimediali è moderno perché 30 anni fa non existo e abbiamo usato perché studenti usano e il target ovviamente è didattico ultimedia usato in il momento in il contesto particolarmente importante per avere successo nella nostra didattica è un eccellente elemento per ottenere una lezione visual support non è importante essere autorevoli carismatici non severi l'insegnante autoritario è severo non si rende non rende piacevole le lezioni è apparentemente la classe più silenziosa e magari più converge insomma con la didattica del professore ma in realtà è tutto un'apparenza un insegnante giusto corrente comprensivo rispettoso serio misurato riesce a coinvolgere nel migliore dei modi gli studenti it's important to be charismatic honest kind serious are very very important for a good teacher to be a good teacher we must have charisma and have the ability to involve children by making them love the subject that we have speaking in the lesson I vi ringrazio tutti insomma per l'attenzione thank you for your attention un caro saluto da Francesco Samani a warm breathing by Francesco Samani bye 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 i i i i i i i i i